. 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 non lo so è l'edilla, vabbè, c'è un po' pozzo, non lo so, l'ingresso le bombe è veramente ricco ah è vero c'è proprio il negozio oh 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 Nooo, non mi serve, guarda! Eseguiamo comunque qualche conto, zio! 1, 2, matto! Non ce l'hai matto! Non ce l'hai matto! Non ce l'hai matto! Ma che forti è, vai glielo giù! Facci! Ohhhh! 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 T'esbi d'enviare! Ho! T'esbi. T'esbi! T'esbi d'enviare! Ma te hevi... T'esbi! 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 Quanto manca? Io da qua non lo posso vedere perché l'ho stoppato Che gli ha fatto? Più o meno, secondo te quanti minuti mancano? No! Stavo più a me! Bravo, bravo! Non ho capito! Solo! Quindi già diciamo cosa è qui si fa Grande portiere! Buon pochino! Buon pochino! Buon pochino! Sarà fermato! No! Buon pochino! grazie